Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Quasi Vero. Oggi vi parlo di un film che ho visto davvero per caso. L'ho visto in televisione qualche sera fa, sapevo che c'era, mi ci sono collegato apposta, ma pensavo fosse un film molto brutto, volevo andare a letto presto, volevo giusto vedere i primi minuti per vedere come era fatto. E sono rimasto incollato allo schermo, l'ho finito, ovviamente l'ho guardato tutto nonostante le pubblicità, e finitolo. Io mi sono preso il computer, sono andato su Wikipedia e ho voluto sapere tutto di questo film, per dirvi l'effetto che mi ha fatto. Il film è il racconto dei racconti di Matteo Garrone, una produzione internazionale, il cast è quasi tutto internazionale, c'è Salma Hayek, c'è Vincent Cassel, ma è un film molto profondamente italiano, più profondamente di quello che si potrebbe pensare. Perché, innanzitutto, le location, e vi assicuro che questo è un film che ti fa venire voglia di andare dove è stato girato da tanto che sono meravigliose, le location sono tutte italiane, centro e soprattutto sud Italia, castelli, natura, architetture meravigliose, con inquadrature, scelte cromatiche straordinarie del regista e studio dei costumi da paura. Tutto ciò che è visivo in questo film è 10 su 10. Comunque sono le grandi architetture, i grandi castelli, in realtà misconosciuti alcuni del sud Italia. Wow, io spero che questo film abbia spinto il turismo di questi luoghi incredibili, anche i luoghi naturali più incredibili, sono tutti nostri, tutti nostrani, tutti del centro e del sud Italia. Che meraviglia! È un film che è uno spettacolo per gli occhi, per i costumi, le scelte cromatiche, inquadrature, alcune cose fantastiche che vengono mostrate, ma che posti, che posti meravigliosi! E ci sono davvero, sono qui da noi. Wow! Prima cosa italiana, veramente bellissima. Seconda cosa è l'osso, l'osso del film. Non è tanto un film di attori, non è tanto un film di dialoghi, è un film di trama. E la trama sono tre racconti, è un film a episodi, tre episodi che si intersecano per tutta la durata del film fino alla fine. Sono tre racconti tratti da Locunto Delicunti, che è una raccolta di racconti napoletana degli anni 30 del 1600 di Gian Battista Basile. una raccolta di racconti importantissima nella storia della letteratura, perché ci sono, se non sbaglio, c'è la prima stesura di Cenerentola, Gatta Cenerentola, hanno da poco fatto un film d'animazione, viene da lì, e altri che sono poi stati presi dai fratelli Grime, eccetera. Quindi è cruciale nella storia del racconto europeo, del racconto fantastico per ragazzi e non solo, perché poi Locunto Delicunti non è mica tanto per ragazzi, ma insomma anche per adulti. E i tre racconti che sono stati scelti da Garrone sono straordinari, sono grotteschi, sono fantastici, sono morali, sono tutti racconti morali, un po' nello stile di Fedoro ed Esopo, per intenderci, e hanno una morale molto simmetrica, di un contrapasso estremamente simmetrico, agghiacciante e ammaliante al tempo stesso. E il film è così, il film spaventa e affascina, continui ad avvicinarti verso qualcosa che ti terrorizza, ma ti ammalia, ti ipnotizza. Dicevo, la componente visiva è tutto in questo film, questo film vince proprio con gli occhi, con i tuoi occhi, ti porta dentro attraverso i bulbi oculari, letteralmente. Non è soltanto le ambientazioni meravigliose, i colori, i tramonti, i costumi, sono qualcosa di straordinario, il trucco degli attori, veramente, non mi appassiono mai a queste cose, è eccezionale. Ma è anche l'uso degli effetti speciali, è un film fantastico, sono racconti fantastici, in cui succedono cose impossibili, ci sono creature impossibili, e sono state rese nel film di Garrone al 90% in modo fisico, materico, reale, insomma ci sono i pupazzi, ecco, e non solo, c'è anche un po' di digitale, ma ce n'è abbastanza poco da non dare fastidio, da non rovinare tutto, perché potrebbe soltanto rovinare tutto il digitale in un film come questo. Per fortuna ci sono tanti effetti speciali fisici, un po' come avevano fatto con Episodio 7 di Guerra Stellare, hanno ripreso tantissimo, però fatti con la precisione con cui si può fare oggi. E questa cosa è molto importante per il film, ed è molto importante per l'immersione che ti dà, l'immersione visiva, e a proposito di immersione, non faccio spoiler, non voglio rovinare niente di questo film a chi non l'ha visto, a proposito di immersione c'è la scena subacquea, e dico solo questo, che visivamente è una delle scene, mi ha lasciato senza fiato, a proposito di scena subacquea, è una delle scene più incredibili che io abbia mai visto. L'ho trovata potentissima, geniale, e wow, wow. E questo film ha tanti momenti così. In più, la cosa bella è l'immaginario che costruisce, in realtà lo mutua, lo sviluppa da questo punto degli punti, del 600 napoletano, ma è fantastico come il film, proprio grazie alla sua componente materiale, materica, potremmo dire, facendo un po' i fighi, le sue ambientazioni medioevo, i castelli del Sud Italia, alcuni delle perle nascoste, non ci sono solo quelli più famosi, davvero che meraviglia. Andate su Wikipedia dopo aver visto questo film, perché si scoprono delle cose stupende del nostro paese. Ma poi c'è proprio il gusto di vedere l'immaginario medievale. Questo film riesce a portarti nell'immaginazione dell'uomo medievale. Per questo è un film che mi ha fatto pensare a Jacques Le Goff, noto, notissimo, storico francese, morto qualche anno fa, che ha dedicato tutto il suo lavoro e tutta la sua opera all'immaginazione delle persone nel medioevo, alla ricostruzione di che cosa pensavano e che cosa immaginavano le persone nel medioevo, di che cosa avevano paura, che cosa speravano, come immaginavano l'aldilà, come immaginavano il mondo fantastico. L'opera di Le Goff io non la conosco tutta, ma è uno di quegli autori che qualunque libro peschi, peschi bene. Quindi il primo libro di Le Goff che beccate, compratelo. E mi ha fatto ripensare a quello, perché nel racconto dei racconti di Garrone davvero entri nella testa delle persone del medioevo attraverso un uso dell'immagine di questo tipo, che è un cinema materiale, che lasciando praticamente fuori il digitale ti consente davvero di immaginare come immaginavano loro, che non potevano immaginare in digitale, ma potevano immaginare in dipinto, in fisico, in animale, in naturale. Come immaginavo io da bambino, ad esempio, perché essendo che ho vissuto l'infanzia negli anni Ottanta io ricordo bene l'immaginazione pre-digitale e questa è una cosa che questo film mi ha fatto molto molto venire in mente. Comunque, insomma, la conclusione sul film, prima di fare un altro discorso, è proprio questa. È un film bellissimo, visivamente straordinario, da vedere e da recuperare assolutamente. Poi, ripeto, sono tre racconti morali medievali, grotteschi, agghiaccianti e magnifici. Questo è il film, non c'è molto altro da dire, va solo visto un film come questo. E poi c'è il discorso che dicevo prima, l'immaginario pre-digitale che il film rispetta e restituisce è quello della mia infanzia, è quello dell'infanzia di tutti quelli che hanno abbastanza anni da ricordarsi il mondo, prima dei computer, prima di internet, prima dei cellulari e, se uno da piccolo ce li ha avuti i tarni, anche prima dei videogiochi. Quindi prima del digitale, davvero. Questo film mi ci ha fatto pensare, non c'entra già più nulla questo discorso con Matteo Garrone. Questo film mi ha fatto pensare alla mia infanzia. Ora, non sono così vecchio da non aver vissuto il 1600, ok? Ma ho fatto questa riflessione. La mia infanzia negli anni 80 e primissimi anni 90 ha più... E quel mondo lì, in cui sì, tecnicamente esisteva già internet, non ce l'aveva nessuno. Sì, tecnicamente esistevano già i computer, ce li avevano in pochissimi, comunque nessuno andava su internet. Sì, tecnicamente esistevano già i cellulari, non ce l'aveva praticamente nessuno, avete capito. I videogiochi in casa, quasi nessuno. Comunque si andava in sala giochi. Quel mondo lì, della mia infanzia, è più simile al 1600, in qualche modo un 1600 fantastico, che al 2017. La rivoluzione digitale che abbiamo vissuto e tecnologica ha cambiato il mondo da quanti millenni era che il modo di vivere degli esseri umani non cambiava così tanto. Hai voglia all'acqua corrente, hai voglia alla pastorizzazione, hai voglia ai vaccini, ma una rivoluzione come quella che abbiamo vissuto mi fa assomigliare di più gli anni 80 al 1600 che al 2017. Ho fatto questa riflessione qui dopo aver visto questo film. Ho visto questo film di Garrone e ho pensato perché ho un senso di casa? Perché ho un senso di infanzia dopo aver visto questo film che c'entra? Perché l'immaginazione dell'uomo medievale è la mia immaginazione di bambino. Per cui a casa se non potevi accendere la tv magari a casa dei nonni tipicamente il pomeriggio io non accendevo la tv non la potevo accendere ora non ricordo e comunque passavi il tempo sui libri e potevano essere le avventure di Paperino con cui qua le giovani marmotte c'era una raccolta di albi bellissimi in cui esploravano il mondo e la natura e quindi sfogliavi guardavi le immagini guardavi il libro sui dinosauri o sugli animali David Gnomo e tutti gli animali sia della preistoria che no quasi tutte disegnate a mano erano di fatto dei dipinti e poi guardavi i cartoni animati magari e giocavi con i pupazzi con i giocattoli potevano essere i transformer i lego eccetera in ogni caso la tua immaginazione se io dovevi immaginare un dinosauro o un mostro fantastico da bambino anche al cinema l'avevo visto fatto con i pupazzi Guerre Stellare e simili e quindi l'immaginazione era quella era un'immaginazione di pupazzi di disegni di colori l'immaginazione di un bambino nel medioevo non era diversa ok non aveva i cartoni animati ma onestamente e questo mi ha dato da pensare tantissimo e mi ha fatto pensare ci sono alcune parti di questo film di questo racconto dei racconti in cui ci si concentra su piccoli insignificanti particolari fisici la pulce la radice per chi l'ha visto è una cosa del bambino di un'epoca pre-digitale perché ti devi intrattenere con qualcosa devi trovare trovi anche un angolino di casa un piccolo oggetto se penso alla mia infanzia e quando giocavo in casa penso al tavolo alla poltrona al gioco al bicchiere al gioco di società i tasselli la tombola che ne so io il libro i libroni quelli con le figure che piacevano al bambino queste cose qui penso non so la casa dei nonni era questo e oggi invece hai tutto tutto l'universo in tasca e appena la tua mente ha voglia di svagarsi subito arriva questo arriva internet e quindi tutta la tua immaginazione digitale anche perché poi al cinema hai visto tutto digitalizzato con effetti speciali anche nei videogame eccetera non immagini più pupazzi disegnati per così dire e invece chi ha vissuto l'epoca pre-rivoluzione digitale ha vissuto un immaginario non così diverso da un immaginario del 1600 quando lui si vuole realizzare il drago poi vedrete che è una cosa un po' particolare così lo potevo immaginare io da bambino visto disegnato magari in un albo per bambini o una cosa così o magari in un cartone o in un film che aveva ancora i pupazzi ed effetti speciali ancora materici pazzesco ma vero insomma vedendo questo film che non c'entra una mazza con la mia infanzia mi sono reso conto che la mia infanzia sta in un mondo così antico davvero che potremmo parlare di medioevo prima della rivoluzione digitale e poi di rivoluzione digitale pazzesco veramente veramente pazzesco grazie a questo film sono riuscito con la mente a ricostruire come mi immaginavo il mondo prima dei computer dei cellulari di internet eccetera eccetera quando erano i disegni e i pupazzi a farti immaginare i mostri sostanzialmente che sembra nulla ma è incredibile è un mondo che chi è nato dopo non può neppure immaginare e probabilmente non apprezzerà minimamente questo film non lo so almeno pensateci a questa cosa è è pazzesca secondo me chi come me è vissuto a cavallo e se la ricorda l'epoca prima perché comunque se sei bambino se hai ancora 10-12 anni era quel mondo lì non te lo scordi più abbiamo visto nelle nostre mani il Nokia 3310 che diventa lo smartphone abbiamo visto nelle nostre e che prima era il bastone per giocare col fango per dire abbiamo visto nelle nostre mani cambiare il mondo in pochi anni come forse non succederà mai più e comunque credo non sia mai successo prima in così pochi anni così tanto cambiamento adesso dicevo il bastone col fango ma che c'entra quando si andava al campetto e mi doveva passare a prendere mio padre o mia madre c'era l'orario preciso e si stava in quel punto preciso ad aspettare o dovevi beccarti con un amico e tu stavi in quel punto ad aspettare e se eri fuori casa non avevi mica il telefono c'erano le cabine e telefonavi ma telefonavi a casa e se quello non è in casa ma vi rendete conto e quindi così un film così geniale nell'illustrare l'immaginario medievale mi ha paradossalmente illustrato il mio immaginario infantile pazzesco visione straconsigliata soprattutto a chi ha i capelli bianchi ciao ragazzi a un prossimo video